Ricordiamo la programmazione di Qui Calcio Cicova. Andiamo in onda tutti i mercoledì alle ore 23 su TRG, canale 11 del Digitale Terrestre. Due le repliche previste, entrambe al giovedì, alle ore 13.30 su TRG1 e quindi canale 111 e alle ore 18.20 su TRG e quindi canale 11. Inoltre dal giovedì mattina ci trovate anche online su video.settecalcio.it Carissimi signore e signori, ben trovate da parte di Stefano Bagliani, a più cordiale buonasera. State per assistere alla nuova puntata di Qui Calcio Cicova, la trasmissione che la redazione di Sette Calcio ha inteso a organizzare quest'anno per parlare un po' dei settori giovanili. Ne abbiamo visitati tanti, un po' in tutta l'Umbria. Stavolta è una circostanza piuttosto particolare perché racconteremo di un seminario di formazione denominato Ricezione e Trasmissione, analisi del gesto tecnico e proposte per allenare la costruzione dal basso in zona 1 e la manovra in zona 2. È un'iniziativa che si svolge, si sta svolgendo presso gli impianti sportivi di Corvia a Foligno per quanto riguarda la Fulginium dunque ed è particolarmente cara a due istruttori come l'avvocato Cristiano della Vedo e il professor Giordano Fortunati i quali ci hanno permesso di assistere, di riprendere le varie fasi del seminario stesso. Eccoci allora sempre qui a Corvia, assisteremo appunto a tre fasi di questo seminario per quanto riguarda ricezione e trasmissione interverranno l'avvocato Cristiano della Vedo e il responsabile tecnico attività di basse della Fulginium, il professor Giordano Fortunati istruttore del Foligno Calcio e poi Manuel Serra preparatore coordinativo motorio. Doveroso è il ringraziamento anche se potrebbe sembrare retorico ma non lo è. Prima di tutto a tutti gli intervenuti, grazie, speriamo di poter passare una bella serata insieme e ringrazio chiaramente anche i miei due compagni di viaggio, di qualche serata con piacere passata insieme per preparare questo lavoro con la speranza che per tutti possa essere utile. Noi siamo, come dicevo a Stefano, parlando un po' di questa serata, noi siamo tutti istruttori, tutti allenatori dilettanti però anche l'allenatore dilettante ha voglia di migliorarsi, ha voglia di migliorare se stesso nelle proprie competenze sia tecniche che educative perché è solo così che riusciamo a migliorare i bambini, chi si occupa di scuola calcio e i più grandi, i ragazzi più grandi, chi si occupa del settore agonistico. Inizio subito che siamo anche un po' in ritardo, il titolo lo leggete tutti, abbiamo scelto queste due tematiche tecniche la ricezione e la trasmissione, andando ad analizzare il gesto tecnico e indicandovi alcune proposte per allenare la costruzione dal basso nella zona 1 e la manovra e lo sviluppo nella zona 2 e quindi nella zona di centrocampo. Il perché? Io ho dato due motivazioni sostanziali, la prima di carattere generale perché riteniamo e spero che condividiate anche voi, come leggete nella slide, che un'ottima ricezione è propedeutica ad un'altrettanta ottima trasmissione e non solo, ho messo tra parentesi, basti pensare che se io utilizzo e ho un'ottima ricezione della palla, questo gesto tecnico non è propedeutico solo alla successiva trasmissione, ma ci saranno anche altri gesti tecnici che potranno venire in maniera più efficace, come può essere una conclusione, come può essere un cross e come può essere un tiro in porta. Chiaramente, come leggete sempre nella slide, un'ottima trasmissione favorisce positivamente il successivo sviluppo del gioco in quanto faciliterà nel ricettore i suoi intenti di gioco, la sua giocata successiva. È chiaro che se io trasmetto la palla al compagno in maniera giusta, con la giusta forza e in maniera precisa, lo faciliterò nei suoi intenti successivi. Da un punto di vista specifico, perché abbiamo scelto questi due obiettivi tecnici? Perché pensando a quella che è la nostra metodologia di lavoro, in cui noi sostanzialmente nelle tre sedute settimanali, come sapete, andiamo a lavorare su una, sulla costruzione dal basso, sulla seconda, sulla manovra e sviluppo e sulla terza, sulla finalizzazione. È chiaro che minimo, minimo, su due delle nostre sedute, che sono quelle della costruzione dal basso e della manovra e sviluppo, sicuramente un obiettivo principale è quello della ricezione e della trasmissione. È intuibile, se io voglio fare un'ottima costruzione dal basso, è chiaro che al di là dei movimenti che devo insegnare ai bambini o ai ragazzi, è chiaro che da un punto di vista tecnico è utilissimo avere una buona ricezione e avere una buona trasmissione della palla. Stessa cosa nella zona 2 di centrocampo, nel momento in cui io devo sviluppare un buon possesso palla, necessariamente devo avere una buona ricezione e un'ottima trasmissione. Ma non è vero solo questo, perché, come abbiamo indicato, immaginiamo una seduta di allenamento sulla conclusione, sulla finalizzazione, quindi lavoriamo sulla zona 3. Se io scelgo di proporre un'esercitazione in cui c'è solo il tiro in porta, ok, la trasmissione e la ricezione non c'è come obiettivo, ma basta che io scelgo per quella seduta di allenamento una combinazione di attacco, la più semplice che mi viene in mente, centrocampista gioca sull'attaccante, l'attaccante scarica e il centrocampista tira in porta, ecco che in questo caso c'è una combinazione e quindi è fondamentale avere una buona ricezione e una buona trasmissione. Tutto questo per dire che questi due fondamentali tecnici per la nostra metodologia di lavoro sono determinanti e quindi questa è la motivazione per cui li abbiamo scelti. È chiaro che questa è una considerazione importante, è un po' la base di tutto questo evento formativo. Ognuno di noi nel momento in cui propone un'esercitazione deve conoscere in maniera precisa qual è il principio tecnico-tattico che si va ad allenare, perché solo così riusciremo a fare le correzioni che sono necessarie, perché solo in questo modo renderemo l'esercitazione efficace e allenante. Se io arrivo in campo, propongo un'esercitazione semplicemente perché l'ho vista su YouTube, non serve a niente. Io devo capire, poi la posso cercare anche su YouTube, perché lo faccio io, lo fate tutti quanti, però devo sapere perché quell'esercitazione presa da YouTube, qual è il principio che allena, inserirlo all'interno della nostra metodologia di lavoro, soprattutto perché devo sapere quali sono le correzioni che devo fare al bambino, quali sono le correzioni che devo fare al ragazzo. Questo risulta determinante. Rudy faceva un esempio alla scorsa riunione quando è venuta Juventus, è inutile che io ho la lavatrice da 2.000 euro se poi non ho la presa di corrente. Noi siamo la presa di corrente, noi siamo quelli che riusciamo a dare efficacia all'esercitazione. È chiaro che questa è una considerazione un pochino più specifica, dobbiamo sapere che una stessa esercitazione può andare ad allenare diversi principi. Io su questa considerazione qua ho fatto un esempio. Immaginiamo di proporre una situazione di uno contro uno. È chiaro che in quella stessa esercitazione io posso concentrare la mia attenzione sia sul lavoro che fa l'attaccante, che magari deve fare gol, sia con la stessa esercitazione, sia concentrarmi su quello che è il lavoro che deve fare il difendente. Quindi lo saprete, insomma, cerco di attaccare alto, di non aspettarlo troppo vicino alla porta, cerco di mandarlo fuori, temporeggio e cerco di intervenire quando si allunga la palla. Questi sono i principi che il difendente deve avere. Questo è un esempio per dire che la stessa esercitazione può allenare due obiettivi e due principi diversi. Sta a me scegliere dove concentrarmi. È chiaro che, è vero anche il contrario, che diverse esercitazioni possono andare ad allenare lo stesso principio. Quindi io ho deciso di allenare la ricezione e la trasmissione, esistono centinaia di esercitazioni in cui io sono in grado di poter allenare quel principio e questo serve anche per rendere, diciamo, le sedute di allenamento meno monotone. Tutte queste considerazioni però sono fondamentali. Io le devo sapere, perché solo facendo questi ragionamenti che appena vi ho descritto, solo attraverso una preparazione, solo attraverso una programmazione, che la proposta di allenamento risulterà efficace. Quindi, come accennavo prima, non è tanto importante, questo anche quando abbiamo fatto le nostre riunioni interne, quando parlo spesso con voi, quando ci confrontiamo, non è importante l'esercitazione che io propongo, non è importante il mezzo di allenamento che io ho, quanto che io devo conoscere alla perfezione il perché propongo quell'esercizio. Perché solo così riesco a fare le famose correzioni di cui parlavo prima. Quindi non c'è necessità di creare esercitazioni in cui magari c'è un carico cognitivo eccessivo, anche un'esercitazione semplice, però che io ho ben chiara in mente, il principio che devo allenare, quella è quella che è altamente allenante. E da ciò discende, anzi, diciamo che la parte propedeutica è che ci deve essere un minimo di programmazione. Ripetisco, siamo tutti allenatori dilettanti, tutti abbiamo un lavoro, anch'io sto in difficoltà a programmare, però almeno il giorno prima io l'esercitazione, la seduata di allenamento la devo preparare. Perché se ci ragiono prima, allora sono in grado poi di portare in campo quelli che sono i principi giusti. Andando un po' più nello specifico su quello che è il gesto tecnico, abbiamo deciso di analizzare quello che il tecnico deve saper fare e deve sapere quando propone una determinata esercitazione. L'istruttore deve conoscere ogni aspetto del gesto tecnico e poi li analizzeremo quali sono gli aspetti della ricezione e della trasmissione. Ogni allenatore deve essere in grado di spiegarlo ai propri allievi. Non basta conoscerlo, devo essere in grado anche di spiegarlo. Deve essere altresì in grado di dimostrarlo. Non basta la dimostrazione. È importante la dimostrazione, ma non basta. Bisogna essere in grado anche di spiegarlo. E questa, secondo me, io l'ho messa per ultima, ma secondo me questa è la cosa più importante, proprio per evitare le famose proposte, le famose esercitazioni passive in cui io sto lì, non dico una parola, i bambini lavorano. Quella è un'esercitazione che non risulterà mai efficace. Devo essere bravo a cogliere l'errore che loro fanno nell'esecuzione del gesto. E torna tutto. Io riesco a cogliere l'errore solo se ho chiaro in mente qual è il principio che voglio allenare. Abbiamo analizzato, così lascio la parola al mister Manuel Serra, che è il nostro preparatore coordinativo motorio, abbiamo analizzato il gesto tecnico della ricezione e della trasmissione sia da un punto di vista strettamente tecnico che da un punto di vista motorio coordinativo. E di questa parte se ne è occupato il mister Manuel. Dal punto di vista della conoscenza degli elementi costitutivi della trasmissione, quindi il gesto tecnico appunto della trasmissione, l'ho analizzata seguendo né più né meno tutti i punti che vengono toccati nei libri di testo anche della federazione. Quindi dopo entreremo nello specifico, ma in modo veloce perché abbiamo tante cose che bisogna dire. Poi sul campo faremo un'esercitazione che ci porta a un'esercitazione propedeutica per appunto la ricezione orientata, ma dal punto di vista degli elementi costitutivi c'è in primis quindi la rincorsa, la rincorsa verso il pallone che deve essere breve, rettilinea sulla palla e a passi brevi e rapidi. Questo a livello motorio, quindi ancora prima di arrivare ad avere il contatto con la palla, presuppone capacità di ritmo, perché devo essere in grado di calcolare ritmo e anche percezione, scusate, dello spazio e del tempo, perché devo essere in grado di calcolare la mia distanza col pallone e di conseguenza capacità di ritmo perché devo scegliere quali appoggi sono, in che frequenza ottimali per poter arrivare appunto ad avere il piede d'appoggio in linea con la palla e poter eseguire la trasmissione del pallone. Quindi capacità di ritmo per quanto riguarda la rincorsa, il piede d'appoggio quando arriviamo a colpire la palla, quindi che la colpiamo nel centro per avere una trasmissione precisa e veloce, con poi vedremo che superficie di contatto, però siamo in una situazione di equilibrio monopodalico, quindi è un equilibrio monopodalico che dura una frazione di secondo, però esiste in qualsiasi azione che facciamo, di ricezione, di trasmissione e di tiro, eccetera, anche nella corsa, giusto? Perché siamo sempre in una fase di volo e poi in una fase di equilibrio monopodalico sull'appoggio di entrambi i piedi. Quindi la situazione però di equilibrio monopodalico, come dicevo, non dura moltissimo, diventa poi subito, una volta che ho eseguito la trasmissione e quindi ho colpito il pallone, diventa subito una situazione di equilibrio dinamico, quindi non è più monopodalico statico, ma è un equilibrio dinamico dell'intero corpo che va a cercare il più in fretta possibile l'altro appoggio appunto del piede che ha calciato per essere pronto alla situazione che già è iniziata, ha iniziato a verificarsi subito dopo la mia trasmissione. Quindi il piede che calcia, diciamo che deve eseguire un'ampia e veloce retroscillazione con extra rotazione a 90 gradi circa dell'anca, quindi questa cosa qua. Cosa succede? Questo presuppone quindi una mobilità dell'anca che deve essere ottimale, diciamo, o comunque la migliore che possiamo avere, perché nella trasmissione e nella ricezione la mobilità dell'anca è fondamentale, anche per dare impulso comunque alla palla, no? Quindi carichiamo, colpiamo e l'oscillazione, quindi questa mobilità dell'articolazione, è tutta quella che poi fa sì che, come diranno poi loro, la trasmissione sarà efficace e veloce. E' precisa? Precisa se la colpisco con la superficie di contatto adeguata, quindi il triangolo, alluce, malleo l'interno e base del calcagno, quindi l'interno, no? In questo caso trasmissione d'interno. La posizione del tronco, quindi dice leggera copertura della palla, passiamo tutto con arti superiori, che sono elementi di equilibrio, di protezione e difesa, quindi il braccio opposto, che al piede che calcia si proietta in avanti, quello corrispondente indietro. Il capo naturalmente è retto. Mi viene da dire che il totale di questi tre punti affrontati, posizione del tronco a coprire leggermente la palla, gli arti superiori a difesa e il capo che sta in una posizione naturale, non è altro che avere una condizione di postura adeguata ad avere un equilibrio monopodalico e poi un equilibrio dinamico. Quindi anche i lavori di postura, anche a partire dai bambini che abbiamo dei 2011 a salire, ma anche prima, sono molto importanti. È tutto legato all'equilibrio. Io credo che anche per quanto riguarda, passando alla ricezione, abbiamo la preparazione al gesto tecnico, che è il movimento dell'intero corpo incontro al pallone. Quindi in questo caso l'equilibrio si lega poi alla percezione spazio-temporale, perché quando la palla mi sta arrivando, devo calcolare, saper calcolare la traiettoria della palla, la velocità che la palla ha e riuscire a mettermi con il corpo nella posizione più adeguata possibile a ricevere quel tipo di palla. Giusto? Quindi dovrò andare incontro col piede e poi smorzarla, come sappiamo, quando la palla entrerà in contatto con l'interno piede, in questo caso per la ricezione d'interno, dovrò smorzare la mia gamba, diciamo l'arto che va a contatto con la palla, per fare in modo che la palla si fermi lì. Sicuramente non riuscirò ad avere questo approccio sul pallone se non sono in equilibrio, con una postura corretta e quindi completamente cosciente del mio assetto corporeo. Giusto? Quindi per quanto riguarda tutti e due i gesti, l'equilibrio è una capacità fondamentale. Niente, l'arto che riceve la palla vi ho spiegato come si comporta, quindi va incontro al pallone e poi si ritrae, quindi sempre con extra rotazione, dell'anca. Quindi anche qua abbiamo visto che la mobilità dell'anca è fondamentale. Posizione del corpo, quindi nella direzione verso la quale si intende proseguire, questo non è altro che una ricezione orientata. Quindi dove vogliamo continuare la nostra azione, in quel modo riusciamo a dare continuità al gioco e a quello che abbiamo in testa, quello che vogliamo fare. L'arto in appoggio esegue un leggero saltello all'indietro in anticipo sull'arrivo della palla. Questo non è altro che un gesto che diciamo ci dà maggior coordinazione nell'esercizio, nel gesto tecnico che andremo ad eseguire. Passando veloce alle capacità motorie interessate, come vediamo sono le stesse, sia da un lato che dall'altro. Per quanto riguarda la trasmissione, il ritmo, come dicevamo, è quello che si richiede per avere una rincorsa corretta, per farci arrivare a contatto con la palla in una postura adeguata. L'orientamento spazio-temporale si fonde con il ritmo e anche con l'equilibrio, perché se non abbiamo ritmo, non abbiamo orientamento spazio-temporale, che quindi vuol dire sapere dov'è la palla, dove sono io rispetto alla palla, dove sono nello spazio rispetto al mio compagno o il mio avversario. Giusto? Quindi queste cose si fondono tutte e perciò ritmo, orientamento spazio-temporale, equilibrio monopodalico ed equilibrio dinamico sono poi un tutt'uno del gesto tecnico. La differenziazione praticamente non è altro che la forza che imprimiamo al pallone, quindi saper differenziare la contrazione muscolare che si necessita per fare una trasmissione veloce e precisa a 5 metri o a 10 o a 20. Ovviamente di interno 50 metri non li facciamo, però devo sapere che forza devo imprimere al pallone ovviamente differenziando se la trasmissione va a 5, a 10 o a 20 metri. Quindi per quello entra in gioco la differenziazione. Anticipazione motoria si collega poi con l'adattamento e trasformazione perché la trasmissione che io sto pensando di eseguire potrebbe anche, quindi l'ho pensata prima, è l'anticipazione motoria. In base alla situazione decido di fare quella trasmissione. Se nel momento in cui capita a tutti e capita continuamente la trasmissione che volevo eseguire non è più possibile o comunque si crea una situazione di pericolo per la quale devo cambiare il mio compito motorio si entra quindi nell'adattamento e trasformazione. Però per adattarmi e trasformare il mio gesto devo prima averlo anticipatamente pensato. Quindi c'è di mezzo ancora l'anticipazione motoria. È tutto un circolo che si ripete. sono arrivato alla combinazione dei movimenti nella trasmissione. Si parla quindi della corsa o conduzione più il calcio della palla. La mobilità articolare dell'anca come abbiamo visto prima è fondamentale per tutti e due i gesti. La mobilità articolare o flessibilità è comunque descritta dai testi da tanti testi scientifici come una capacità complessa. Quindi è un po' è un po' capacità coordinativa e capacità condizionale. È sicuramente fondamentale per tutti gli sport e in questo caso per il calcio per la trasmissione e ricezione non c'è alcun dubbio. Per quanto riguarda la ricezione invece il ritmo sarà appunto come dicevamo prima i passi che dovrò fare incontro alla palla per poter calcolare la traiettoria di palla la velocità eccetera per poterla ricevere nel modo più corretto. Orientamento spazio-temporale non sto usando il laser orientamento spazio-temporale equilibrio monopodalico equilibrio dinamico dell'intero corpo sono come dicevamo prima un tutt'uno per avere una postura che mi permette di eseguire un gesto il più corretto possibile e funzionale all'azione che poi vorrò mettere in atto perché non dimentichiamoci che con la ricezione poi divento il protagonista dell'azione quindi devo essere in una condizione ottimale quando la palla mi arriva per poter dare continuità a quello che si sta facendo o quello che ho in mente di fare. La differenziazione è la capacità in questo caso che entra in gioco nella ricezione di palla quando devo smorzare la muscolatura che mi permette appunto di far fermare la palla dove voglio io perché se rimango con i muscoli contratti la palla sbatte sul piede e ritorna da dove è venuta perciò il bambino o ragazzo deve essere in grado di percepire questa potenza di passaggio e sapere ovviamente attraverso l'esperienza e la sperimentazione e la sua scoperta diciamo che se una palla arriva più forte devo essere in grado di smorzarla in maniera più elevata o diciamo in modo migliore quindi dovrò avere un arto che va a contatto con la palla ben rilassato molto più se una trasmissione o una trasmissione lenta l'anticipazione motoria e l'adattamento e trasformazione in questo caso possono essere possiamo classificarli nel senso che ad esempio ho pensato di fare una ricezione aperta e poi mi rendo conto che invece non c'è spazio oppure sono pressato o dal nulla la situazione è cambiata perché succede sempre così e quindi se io apro magari perdo il possesso di palla perciò devo essere in grado di adattarmi alla situazione che si è creata come lo faccio con anticipazione motoria perciò magari solo dando un'occhiata mi rendo conto e quindi chiudo e proteggo e scarico e facciamo un'altra cosa ok la combinazione dei movimenti sono la corsa il saltello che dicevamo prima a ricevere e la ricezione in sé quindi la ricezione il contatto con la palla mobilità articolare ne ho già parlato quello che faremo in campo andrà senza leggere tutto ve l'ho già spiegato però a vedere più che altro una situazione di equilibrio e orientamento spazio-temporale quindi si farà un esercizio senza la palla e poi magari aggiungiamo anche la palla dove bisogna c'è anche la reazione capacità di reazione però non è un obiettivo che ho io in questa esercitazione quindi ricollegandomi a quello che diceva prima Cristiano ci sono delle esercitazioni io ad esempio consiglio di fare una cosa che a me mi viene comoda diciamo mi semplifica un po' le cose tante volte abbiamo un'esercitazione tanti bambini o ragazzi e vogliamo magari o non riuscendoci perché poi sono tanti stare dietro a tutti passatemi il termine e quindi un occhio là un occhio là un occhio là eccetera io ad esempio faccio questa esercitazione che faremo fuori alla reazione quindi reagire a una chiamata di colore tipo psicocinetica e poi una situazione di equilibrio e di orientamento spazio-temporale perché devo reagendo al colore effettuare una corsa in diversi stili di corsa quindi da una corsa ad esempio incrociata devo passare a una corsa in modo laterale una corsa laterale e poi una corsa frontale verso un obiettivo questo questi tipi di corsa sono tutti i tipi di corsa che succedono nella partita in tantissime situazioni però per poter eseguire tutte queste cose bisogna essere in equilibrio sicuramente perché se no non arriviamo a un obiettivo e avere orientamento spazio-temporale che è appunto la capacità dei movimenti differenti del proprio corpo nello spazio e nel tempo in relazione a punti di riferimento definiti e noti quindi nel calcio spazio di gioco compagni avversari e palla non dimentichiamoci che l'equilibrio appunto per questa anche cosa che ho detto in precedenza è molto importante non solo per il gesto tecnico ma anche perché ci permette di non cadere in seguito ad una finta destabilizzante di un avversario quindi se siamo in equilibrio è probabile che ci saltano difficilmente e in una corsa o conduzione fianco a fianco con l'avversario riusciamo a mantenere il controllo del nostro corpo e magari a riconquistare il pallone ok adesso ho finito e passo la parola a Giordano grazie quindi basandomi su tutto quello che hanno detto loro quindi hanno fatto un escursus su quello che è la tecnica l'importanza quindi della tecnica io vorrei andare un pochettino più veloce e centrare più che altro il succo della serata di quello che ci eravamo proposti che è comunque l'allenamento in zona 1 e in zona 2 è chiaro che tutta la tecnica che hanno spiegato Cristiano e Manuel è fondamentale per poter riuscire poi ad avere un gioco che ci permette poi di andare a sviluppare i nostri principi però partendo quindi adesso analizzeremo un attimo la ricezione la ricezione orientata tutti voi sapete l'importanza cos'è la ricezione orientata ed è fondamentale soprattutto in zona 1 e in zona 2 per poter riuscire a costruire un gioco che ci permetta avere il nostro obiettivo quello di fare gol e la ricezione orientata noi l'abbiamo suddivisa per comodità per far capire poi anche ai ragazzi soprattutto ai ragazzi della scuola calcio in tre tipi di ricezione che sono ad aprire a chiudere e di esterno è molto semplice non è che la ricezione ad aprire in pratica è quella che avviene dietro il piede perno cioè io vado a ricevere una palla la faccio scorrere e vado ad aprire come è scritto lì e accompagnarla quindi e ad andare dopo aver fatto una ricezione dietro la linea del piede che sta a terra la parte opposta cioè quella opposta è la ricezione a chiudere vengo a prendere la palla davanti al piede perno di esterno stessa cosa io vado a cercare la palla la prendo con l'esterno e la vado a portare via questi sono i tre tipi di ricezione orientata che analizziamo naturalmente ce ne sono altri ma per comodità per dare uno stesso linguaggio ai ragazzi noi almeno da un po' di tempo con Cristiano abbiamo sempre utilizzato questa questa terminologia questa naturalmente ci serve sapere che cos'è saperla insegnare ma anche avere come obiettivo di saper usare la giusta ricezione a seconda della situazione naturalmente qualsiasi ricezione noi andiamo a fare è determinata da una situazione che può essere l'arrivo di un avversario o il mio obiettivo in quel momento quindi andare a fare gol andare a fare un passaggio andare a condurre la palla andare a fare un cross quindi ci possono essere diverse situazioni però dobbiamo sia allenare nella nella tecnica i tipi di ricezione ma poi dobbiamo anche andare a sviluppare a seconda della situazione sapere utilizzare il tipo di ricezione adatto a qualsiasi situazione quindi questo è fondamentale come sappiamo adesso andiamo a fare i nostri i nostri allenamenti facciamo sì una parte tecnica poi facciamo una parte una tecnica contestualizzata dopo vedremo quello che andremo a fare che abbiamo proposto abbiamo pensato in zona 1 poi andiamo a mettere in situazione quindi in questa in questa situazione in situazione io devo sapere quale tipo di devo scegliere quale tipo di ricezione andiamo ad ad effettuare stessa cosa la trasmissione della palla anche qui abbiamo preso in considerazione il gesto tecnico naturalmente qui siete tutti allenatori e sapete anzi dovete sapere come se passa se trasmette un pallone ma noi per comodità abbiamo solo preso di riferimento una trasmissione la soterra la dente al suolo è chiaro che non esiste solo quella nello sviluppo dell'azione esiste anche la parabola soprattutto quelle squadre che cercano di sviluppare il gioco dal basso molte volte succede che per saltare la linea nel pressing avversario utilizziamo anche il portiere utilizza un lancio sull'esterno quindi un lancio alto che l'esterno difensivo deve sapere comunque trattare una palla alta che deve sapere trattare quindi però noi abbiamo preso solo in considerazione questo per questa sera quindi c'è tutto come va messo il piede questo poi saranno tutte le slide che vi verranno fornite quindi cercherei di andare un po' più veloce quindi andiamo proprio al campo noi abbiamo pensato come diceva come diceva prima il mister non esistono non esistono esercitazioni per la zona 1 o per quel tipo di zona esistono esercitazioni per principi noi ognuno di noi quando prepara un allenamento dovrebbe dalla tecnica alla partita finale avere in mente un principio da allenare così per fare in modo anche per i ragazzi di riuscire a capire quello che vogliamo andare ad ottenere da loro costruzione dal basso in zona 1 chiaro che noi abbiamo un obiettivo in zona 1 perché costruiamo dal basso perché cerchiamo di costruire dal basso obiettivo molto semplice per fare gol ci sta un'altra cosa noi cerchiamo di costruire dal basso per riuscire a fare un'azione per andare a fare gol quindi non è perché vogliamo essere belli o più bravi degli altri costruiamo dal basso perché cerchiamo di fare più gol degli altri quindi questa è la nostra cosa per poter costruire per questo obiettivo finale il nostro mezzo è l'allenamento sono i principi il primo principio adesso noi molto semplicemente e abbiamo fatto una progressione poi preparata anche in campo molto semplici ma di esercizi molto semplici parte dalla postura del corpo che deve assumere il difensore il difensore centrale per poter riuscire a fare una buona costruzione dal basso quindi deve stare deve vedere più campo possibile deve stare in una postura aperta e oltre a mettere in pratica tutta la tecnica che avete visto che hanno detto i miei colleghi quindi questo è un esercizio semplicissimo vedete adesso c'è la dal paletto giallo si fa il giocatore fa un passaggio al centrale difensivo blu che si stacca dal cono dal cono che per noi come sapete benissimo è un avversario quindi per noi prendiamo per riferimento quando vediamo i coni o paletti sono avversari quindi il difensore il difensore blu si deve staccare dal cono con la giusta corsa che poi dobbiamo sapere come la deve fare si deve riuscire ad aprire riuscire a mettersi in una posizione che vede la palla che dovrà dare il proprio compagno e vedere il riferimento avanti questa è una semplice esercitazione che penso vada bene per ogni categoria ho utilizzato quest'anno la prima seduta con i giovanissimi e con i giovanissimi regionali e sinceramente ho visto che c'erano ancora arrivati i giovanissimi regionali molte difficoltà a fare questo tipo di esercitazione è chiaro che questo deve essere proposto può essere proposto il principio deve essere proposto a tutte le categorie dai piccolini per abituarli proprio a capire che devono assumere una posizione tale da poter vedere la palla da poter vedere il giocatore questa perché parliamo di tecnica contestualizzata perché questa è un'esercitazione che poi loro ritrovano in campo perché possiamo pensare che il giocatore giallo sia il nostro portiere il giocatore blu sia il nostro difensore centrale oppure possiamo pensare che questo sia il nostro centrale e questo sia il nostro esterno di una squadra di una difesa a 11 quindi questo è proprio quello che poi trovano trovano realmente nel campo quindi e qui possiamo curare come ha detto prima il mister in questa esercitazione possiamo curare mettere porre l'obiettivo e la nostra attenzione in parecchi obiettivi sulla sulla corsa di questo giocatore sulla postura di come va a ricevere la palla sul tipo sulla trasmissione perché noi andando avanti nel tempo all'inizio dobbiamo cercare una costruzione precisa una trasmissione precisa per quello che riguarda i primi anni di scuola calcio ma poi non ci basta più una trasmissione precisa ci vuole anche una trasmissione veloce quindi precisa e veloce perché se vogliamo costruire se vogliamo superare il pressing della prima linea avversaria dobbiamo muovere questa palla veloce quindi dobbiamo andare a vedere i tempi con cui si staccano i giocatori perché se ci stacchiamo troppo presto aspettiamo qui 5 secondi questo è un avversario in partita mi viene a prendere e quindi non posso più costruire se vado troppo tardi non la prendo oppure arrivo e ho l'avversario alle spelle e quindi ho un altro problema devo ritornare da dietro e quindi qua dopo vado a gestire questa esercitazione secondo il mio principio secondo quello che ho fatto anche nel tempo perché qui poi devo andare a fare una ricezione orientata preferibilmente ad aprire andare a condurre subito la palla perché qui poi si andrà a condurre e si passa la palla a quest'altro giocatore qui vediamo solo molto semplice è una catena adesso a destra poi quando si cambia si farà la catena a sinistra e questa è un'esercitazione che però per quanto possa essere semplice ha molte ha molte sfaccettature perché qua questo giocatore deve andare a ricevere la palla con la ricezione giusta il tipo di ricezione giusta perché se va di destro ad aprire protegge la palla verso l'avversario molte volte i nostri ragazzi magari un mancino va a chiudere di sinistro e scopre la palla verso un avversario questo non solo i nostri bambini ma lo fanno anche in categorie più grandi quindi questo è un errore da andare a correggere subito perché comunque noi vogliamo che il nostro giocatore quando prende palla e costruisce abbia abbia il corpo fra palla e l'avversario questa è la quindi da qui questa è tutta la 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 spiegazione gli errori più frequenti gli errori più frequenti qualsiasi allenatore qualsiasi di noi ha delle delle esercitazioni preferite questa e quindi sa anche a forza di farle quali sono gli errori che i propri ragazzi commettono in queste esercitazioni e anche queste sono importanti è importante sapere già prima quali errori potranno andare a fare perché così sappiamo subito cosa andare a correggere la prima cosa la prima la principale è che il giocatore che va a ricevere assume una postura che non gli permette di vedere contemporaneamente sia la palla sia il giocatore posto davanti a lui vedono solo quello che gli dà la palla si mettono in una posizione e vedono solo il giocatore che gli ha dato la palla e in partita cosa succede che quando mi arriva la palla io ho l'unica giocata devo giocarla dietro anche me la data e quindi non riusciamo ad avanzare il nostro obiettivo poi in zona 1 è quello di avanzare perché se vogliamo andare a far gol la porta sta dall'altra parte quindi questa è la cosa principale che bisogna andare a correggere perché questa esercitazione perché è utile come abbiamo detto prima per la postura del corpo per riuscire quindi ad andare a sviluppare un'azione quindi poi adesso mister ci farà vedere un'altra esercitazione che è susseguente a questa che abbiamo visto adesso cioè quella era solo per difensori centrali per capire dagli primi passi per muoversi e per poter capire cosa cosa voler andare a fare cosa vogliamo per riuscire a raggiungere il nostro obiettivo in zona 1 che è quello di avanzare e andare a fare gol è tempo di cambiare con 7 calcio ora hai tutto il calcio umbro in tempo reale scarica gratis l'app Italia Gol e poi seleziona 7 calcio è la nostra nuova applicazione risultati in tempo reale classifiche marcatori calcio mercato highlights trasmissioni e tante tantissime news è davvero tempo di cambiare scarica la nostra app Italia Gol e poi seleziona 7 calcio è la nostra nuova applicazione non puoi sbagliare non puoi non averla benissimo allora abbiamo assistito a questo interessantissimo evento organizzato da Cristiano della Vedua e dalla Società del Foligno Fulginium insomma un po' questo unione di forze UEFA poi dopo mi spiegherai e ci spiegherai cosa significa Grassroots C License non so se l'ho letto bene che tipo di in buona sostanza è l'attestato che abilita un tecnico a poter svolgere attività di istruttore in questo caso è la Grassroot C la licenza C fino sostanzialmente ad una primavera di una squadra professionistica esclusa ovviamente ovviamente la primavera quindi è un è un attestato insomma che abilita ha un bel po' ha un bel po' di lavoro ha un bel po' è un bel po' di attività e credo che sia un requisito importantissimo non è un punto di arrivo per Cristiano assolutamente ma guarda io dico sempre ricevo fortunatamente qualche complimento da qualche da qualche persona ha detto i lavori da qualche amico e mi dicono dice sei competente sei capace dovresti provare ad allenare no? magari i più grandi io in realtà rispondo sempre così io voglio diventare bravo ancora di più con i piccoli perché ho capito che la mia vocazione vocazione è questa poi è chiaro io qua dentro collaboro con tutti quindi mi capita di allenare mi capita di allenare dai bambini da sei anni fino a quelli di diciotto non ho problemi però sento che io voglio voglio continuare a diventare ancora più bravo su questa su questa fascia d'età bene senti come mai questo evento? Allora sostanzialmente come ti accennavo anche quando eravamo insomma nei primi contatti la mia volontà era quella di lanciare un po' questo messaggio anche gli allenatori i tecnici dilettanti che magari corrono di corsa dal lavoro per andare al campo per andare all'allenamento togliendo tempo al lavoro alle famiglie alle compagne alle mogli e comunque hanno fame di migliorarsi hanno fame di migliorare tutte le proprie competenze e siccome molto spesso riesce difficoltoso da parte mia pur essendo responsabile andare capillarmente in campo con ogni tecnico anche se vorrei farlo e cerco di farlo ho ritenuto opportuno fare una sorta di riunione formativa poi abbiamo dato insomma questa un po' di visibilità l'abbiamo conclusa con un aperitivo e anche l'occasione per stare bene insieme però ritengo che la formazione quando si può quando è possibile perché ripeto tutti abbiamo i nostri impegni tutti abbiamo i nostri lavori vada fatta perché solo migliorando le nostre competenze riusciamo a migliorare i bambini o i ragazzi che alleniamo poi insomma anche attività di esempi direttamente sul campo sì sì assolutamente assolutamente avevo studiato insomma questo evento formativo sia con una parte teorica in aula che con una parte poi pratica sul campo in cui noi relatori abbiamo utilizzato i nostri tecnici come se fossero bambini come se fossero i ragazzi per dimostrare poi quello che avevamo analizzato teoricamente e credo che sia stata una cosa interessante perché non abbiamo visto le proposte o le gestualità solo sulle slide ma l'abbiamo vista anche in campo no no assolutamente confermo che è stato davvero molto interessante diciamo il tema era ricezione e trasmissione per i profani stop e passaggio stop e passaggio stop e passaggio hai detto hai detto bene gli abbiamo dato questa terminologia diciamo un po' più elegante un po' più professionale un po' più professionale un po' più carina e io ho scelto questa questa tematica poi come ho detto durante il convegno perché sostanzialmente per quanto riguarda la nostra metodologia che utilizziamo sia nell'attività di base che nel settore agonistico si tratta di due fondamentali che vengono molto che vengono molto sviluppati e quindi ho scelto diciamo quelle gestualità tecniche che noi praticamente in ogni seduta di allenamento andiamo andiamo a sviluppare mi auguro che ci sia l'occasione di andare ad analizzare anche altri altri gesti altre tematiche però per il momento diciamo ho deciso di iniziare da quelli che per noi sono un pochino più importanti quelli fondamentali sì assolutamente sì il controllo di palla poi secondo me è ancora più fondamentale diciamo che è in generale in generale questi due fondamentali risultano determinanti no? in generale per quanto riguarda la metodologia che noi utilizziamo ancora di più diciamo in maniera ancora più specifica ecco senti quanto tempo può correre affinché un mister insomma assorba tutti i vostri dettagli allora mi fai un domandone allora io parto dalla fine io credo che i tempi si riducano in maniera sensibile quando noi abbiamo il fuoco dentro la passione che ci anima solo in questo modo riusciamo a velocizzare i tempi di apprendimento un po' come il bambino più passione ha più voglia ha e più impara velocemente è chiaro che ribadisco noi facciamo altro di lavoro quindi non è sempre semplice dare il 100% è chiaro però credo che nonostante siamo istruttori direttanti credo che si possa essere professionali e migliorarci anche nel direttantismo e credo che anche con queste occasioni ci sia venga data questa possibilità io qualora ci avessi avuto un responsabile ma non perché voglio vantarmi però qualora ci avessi avuto un responsabile in passato che magari proponeva queste cose sarei stato ben lieto ben contento come spero siano stati contenti contenti anche loro ripeto al di là della formazione era anche l'occasione per passare una serata insieme perché non è sempre semplice certo miglioramento del mister uguale miglioramento del calciatore o perlomeno così dovrebbe essere credo che ci sia una diretta proporzionalità o comunque qualora il bambino ha un istruttore capace c'è una maggiore probabilità che comunque migliori migliori più velocemente è chiaro che noi abbiamo una capacità limitata in alcuni casi nel senso che se c'è purtroppo il bambino che magari non è proprio portato da un punto di vista tecnico e da un punto di vista motorio noi possiamo fare ma diciamo fino a un certo punto poi è chiaro noi facciamo anche l'aspetto sociale per cui noi tutti i bambini vengono accolti indipendentemente dalle capacità viene garantito lo stesso standard di allenamento poi è chiaro che magari è un po' come a scuola c'è il bambino che ha 8 c'è il bambino che ha 6 però ripeto noi cerchiamo di garantire lo stesso standard di allenamento a tutti però è chiaro che avere un istruttore capace sicuramente darà ai bambini una maggiore possibilità di poter diventare calciatori a qualsiasi livello perché io dico ai miei voi l'obiettivo vostro è quello di giocare a calcio più tempo possibile quindi si può essere calciatori dalla seconda categoria alla Champions League però io devo essere bravo a fornirgli quante più possibili competenze per poter fare questo per giocare a calcio fino a che il fisico glielo consentirà perché se io ho il bambino più grande e veloce e magari gli dico butta la palla avanti e vai dietro e magari fai gol vinco tutte le partite però io a quel bambino che fisicamente in questo momento è più dotato non gli ho dato le competenze calcistiche per poter proseguire a giocare a calcio tutta la vita gli ho dato solo un'indicazione per poter vincere la partita probabilmente quel bambino è destinato a smettere e questa è una sconfitta è una sconfitta esatto senti tanti schemi ed esercizi proprio specifici la creatività quando arriva allora guarda come arriva mi fai una domanda in cui io devo devo diciamo andare ad analizzare quello che è stato un mio un mio cambiamento come istruttore come tecnico io ho iniziato ancora giocavo a calcio quindi ancora ero orientato alla mentalità del calciatore quindi se vedevo il bambino che magari faceva una giocata un po' particolare un po' fantasiosa e perdeva palla tendevo tendevo un pochino ad arrabbiarmi perché magari dicevo fai la cosa più semplice magari la palla non la perdevi in realtà in realtà poi nell'evoluzione spesso cambia formandomi formandomi andando avanti andando avanti nella mia formazione come tecnico aumentando le mie le mie esperienze sono in grado in questo momento di fare un'affermazione totalmente contraria nel senso che il bambino deve esprimere quanto più possibile tutta quella che è la sua fantasia sia motoria che tecnica in ogni momento è chiaro è chiaro e quindi non va ripreso non va rimproverato se esegui un gesto tecnico di particolare difficoltà e magari si perde palla magari è chiaro che nel momento in cui questo gesto tecnico fantasioso che a lui gli viene naturale non raggiunge il risultato che il bambino vorrebbe magari l'unica cosa che posso fare è andargli spiegare magari proviamo a trovare una soluzione alternativa ma sicuramente non lo rimprovererò mai quando esegui un gesto tecnico dato dal talento e dato dalla creatività è normale assolutamente senti prima quando hai fatto il tuo intervento dicevi noi siamo la presa di corrente spiegaci bene cosa contendi da vostro punto di vista cercavo di far capire un po' ai miei tecnici che si parlava insomma dell'esercitazione si parlava dei principi che dobbiamo dare a questa esercitazione e vorrevo fargli capire che nell'ottica di una programmazione non è tanto importante l'esercitazione che io propongo quanto avere chiaro in mente il principio che io voglio allenare in quella seduta di allenamento perché io per allenare quel principio ho mille esercitazioni l'importante è che io ho le idee chiare su quello che voglio proporre ai bambini quindi non serve un'esercitazione con tante difficoltà con tanta complessità bella perché l'ho trovata su Youtube bene che la vado a trovare su Youtube perché capita anche a me ma io devo contestualizzarla con la mia metodologia ma soprattutto devo sapere qual è il principio che vado ad allenare da qui la battuta simpatica che ho detto è inutile che io ho una lavatrice ho un'esercitazione bellissima e poi magari non sono in grado di andarla a sviluppare e non la rendo efficace quindi bene anche l'esercitazione semplice purché io sia in grado di renderla efficace e allenante certo senti ma l'età di inizio per cominciare a prendere queste tematiche di cui abbiamo parlato oggi qual è? un bambino a che età può cominciare davvero a capire cos'è il controllo di palla? benissimo allora è chiaro che nelle fasce di età più piccole il calcio è solo ed esclusivamente un sottofondo nel senso che loro vedono la palla e dicono che giocano a calcio in realtà per tutti gli sport esiste nelle fasce di età più piccole la parte coordinativa e motoria che risulta determinante poi è chiaro che noi insegniamo calcio e quindi mettiamo anche la palla in determinate esercitazioni per i più piccoli però diciamo che nelle prime fasce di età il lavoro predominante è quello sulla parte coordinativa e motoria queste analisi queste esercitazioni che diciamo noi siamo andati a proporre diciamo che inizia ad essere per una fascia di età leggermente più elevata quindi che può essere già dai primi calci pulcini a seguire diciamo invece che per i piccoli amici queste proposte sono un pochino difficoltose l'ultima curiosità la lezione come ribadisco molto molto interessante è vero ma per noi che lo guardiamo dalla tribuna il calcio non è poi così semplice che noi magari critichiamo un atteggiamento lo diamo un altro però insomma vedere tutte queste slide tutti questi insegnamenti è un po' più complicato i calciatori sono davvero in grado di assorbire tutte queste cose insegnamenti in realtà in realtà poi c'è differenza tra la formazione che si va a fare all'allenatore e la formazione che vado a fare che vado a fare al calciatore ma soprattutto al bambino al bambino al bambino al bambino deve conoscere ogni aspetto del gesto deve saperlo spiegare deve saperle dimostrare e deve saper cogliere gli errori per poter fare le correzioni e è chiaro però che quando io traslo tutte queste competenze al bambino devo essere molto devo darglielo in maniera molto semplificata chiara e precisa quindi il bambino apprende apprende nel momento in cui io parlo il suo stesso linguaggio se io con lui con il bambino utilizzo il linguaggio che io ho utilizzato questa sera è chiaro che la mia spiegazione non sarebbe efficace se tu ci hai fatto caso io ho utilizzato in alcuni casi oltre alla terminologia tecnica ed elegante di cui tu parlavi prima ho utilizzato alcuni termini che in realtà noi andiamo ad utilizzare con i bambini facevo l'esempio della punta del piede d'appoggio che va del piede d'appoggio rispetto alla gamba che calcia la punta del piede d'appoggio per fargli capire che deve essere direzionata nella direzione che voglio dare la palla io gli dico quello là è il mirino come se fosse il mirino di una pistola come se fosse il mirino di un fucile e in quel modo lui riesce a capire quindi avere le idee chiare utilizzando quei termini per noi tecnici poi è chiaro che ai bambini io devo utilizzare un linguaggio che sia a loro consono e comprensibile anche con degli esempi carini e simpatici è normale per loro comunque è un divertimento poi dopo piano piano magari diventerà qualcos'altro assolutamente non so se puoi aggiungere qualcosa credo che credo beh un ringraziamento a te che mi hai a voi che ci avete invitato onorato di questa presenza e niente spero spero ecco di aver creato di aver dato un po' anche un'idea ai miei colleghi delle altre società che magari si vogliono scimentare so già che lo fanno però magari di dare un pochino di visibilità anche al loro lavoro perché ripeto di allenatori delle altre società bravi in gamba ce ne sono tanti e quindi ecco come ti dicevo mi piacerebbe creare anche un po' un'idea un format che magari qualcun altro possa consideriamola un po' una puntata a zero si una puntata a zero e magari se ci fosse qualcun altro che avesse quest'idea ben venga io come ti ho detto non sono geloso di niente purché il movimento cresca assolutamente vediamo vediamo quello che succederà benissimo allora ribadisco quello che abbiamo fatto quest'oggi abbiamo praticamente raccontato di un seminario di formazione per quanto riguarda il calcio giovanile ricezione e trasmissione analisi del gesto tecnico e proposte per allenare la costruzione dal basso in zona 1 e la manovra in zona 2 l'abbiamo fatto con vari interpreti in particolare in questo momento con l'avvocato Cristiano della Vedua che qui alla Fulgilmo è responsabile tecnico dell'attività di base giusto? ho detto bene? benissimo allora ringrazio Cristiano grazie mille e con voi ci vediamo la prossima volta grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille